Qui è invece Tenderloy, che vi farò vedere un video invece di una ragazza dell'anno scorso, che è un quartiere dove c'è costituzione, droga, ma allo stesso tempo ha anche famiglie immigrati, nuovi immigrati, dal Vietnam o dalla parte dell'Asia, e lei era in illustrazioni e ha creato, c'è un giardino che è chiuso da un cancello e ha fatto tutto un lavoro su questo. Lui è di architettura e anche lui si è concentrato, dicendo la parte negativa e la parte positiva, lavorando su un progetto dove, per effettuare la parte positiva. Insomma, questo da portare a un'idea. Lei invece è a Pantown, che lavora sempre col passato con la storia che è presente, da quale fate vedere il video, perché penso che è semplicemente pesante per voi da vedere. E qui è l'istantina, che non vi posso pubblicare tanto di vostro lavoro, perché non, come ripeto, è un'istantina e ci sarà di più che la vostra. Grazie. 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 No, questo non vale il giudice No, vabbè, meglio che solo trovare Non fa scelta acqua che lì Non fa proprio diversità No, vabbè, meglio che solo trovare 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 In questo caso No, vabbè, meglio che solo trovare 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 Vabbè, meglio che ci tenai Vabbè, meglio che se chiudere Vabbè, meglio che sape ya per i vostri uomini Buongiorno a lot of people, I mean, this is a big change coming right out of college, I mean, you attack it so fast, you sit all the way suddenly eating well and drinking a lot and we're just not getting enough exercise or time outdoors, but it also takes its toll on your own mentally as well. Become less patient, you demand things being done for you in a professional way all the time, it's just as intense, you just expect people to go an extra mile and stay late to get your things done. I'm also surprised with the way people, I actually was shocked, everybody thinks that you're some kind of high flyer, taking drugs, going around, doing things you're not supposed to be doing, me and my ex-girlfriend accused me of smoothing me up once in a while and quite frankly that just never happened, I mean, well your ex-girlfriend was from New York, right, I mean, that was not, I'm not Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.